Anche quest'anno, per le festività natalizie, l'Associazione Presepisti Nesseni, preseduta da Marco Archetti, ha organizzato la diciottesima mostra dei presepi artigianali, esposizione inaugurata domenica pomeriggio alla presenza del vicario generale Onofrio Castelli. Patrocinata dall'assessorato alla cultura, la mostra sarà aperta fino al 6 gennaio, tutti i giorni, dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 16 alle 21. Anche quest'anno ci siamo riusciti, sperando sempre anno per anno che si fanno queste nuove iniziative. Io questa passione mi è iniziata da piccolo, un presepe ora con una tavola piccolissima, poi anni e anni, crescendo, abbiamo avuto il nostro grande presepe. Con la nostra collaborazione, il nostro Jonathan, sperando che anche lui porta avanti questa tradizione, lui è mio figlio. Grazie. Grazie.